Dopo le promesse di potenziamento dell'ospedale della chirurgia di Pergola, il 4 marzo prossimo purtroppo chiuderà la chirurgia e verrà trasferita in blocco presso l'ospedale di Urbino. Non solamente chiuderà la chirurgia generale, ma verrà smantellata la chirurgia ortopedica della mano, che era diventata un'eccellenza della nostra provincia ed era in grado di attrarre anche mobilità attiva. Tutto ciò col pretesto di lavori indifferibili e urgenti di manutenzione, lavori che in realtà la Regione doveva seguire ormai da tempo e che si sta affrettando ora a realizzare perché forse potrebbe perdere anche i relativi finanziamenti europei. Ma che sia un pretesto lo si può comprendere dal fatto che gli stessi lavori sono stati realizzati nell'ospedale di Urbino senza chiudere né trasferire alcun reparto. Insieme alla chirurgia chiuderà purtroppo anche la mensa e la cucina ospedaliera per non riaprire più, chiuderà il bar dell'ospedale e verranno addirittura ridotte anche le camere mortuari. Questo è quindi il sintomo preciso di quello che vedrà purtroppo l'ospedale di Pergola nei prossimi anni. Ma questo non è l'unico disagio che stanno affrontando i residenti, i cittadini pergolesi perché anche prenotare una visita sta diventando un problema. Questo non è un problema solamente dei cittadini di Pergola ma è il problema dei cittadini dell'intera provincia e dell'intera regione. Coloro che vogliono prenotare una visita o un esame presso l'azienda ospedaliera Marche Nord non lo possono più fare attraverso il CUP che è oggi l'unico metodo di prenotazione tramite un numero verde per appunto accedere a visite ed esami. Devono per forza recarsi presso le casse dei soli ospedali di Pesaro e Fano. Quindi pensiamo se un cittadino di Fano deve prendere la bicicletta per andare alla cassa del proprio ospedale un cittadino di Pian di Meleto, di Pergola, di Fermignano o di Urbania deve prendere l'auto, macinare decine di chilometri, rimanere in fila per ore e finalmente prenotare la visita o l'esame. Addirittura dei cittadini hanno dovuto prendere un giorno di permesso dal lavoro e i cittadini più anziani non hanno potuto ancora prenotare la visita perché da soli senza la possibilità di disporre di un'autovettura non si sono potuti recare da Pian di Meleto all'ospedale di Fano o di Pesaro. Questa è la sanità amministrata dal centro-sinistra di Ceriscioli. Una sanità pubblica che va a scomparire, viene distrutta per lasciare posto alla sanità privata e agli interessi della sanità privata. D'altronde non dimentico che i soggetti della sanità privata, le società della sanità privata, alle ultime elezioni regionali hanno scelto un unico soggetto da finanziare e questo soggetto era Luca Ceriscioli del PD, attuale presidente della Regione Marche.